Vuoi fare delle foto? Postala! Ancora un altro drink! Oh, guarda, guarda, oddio! Lora! Oh, ragazzi! Che si dice? Li avete poi comprati i biglietti come vi ho chiesto due settimane fa? Quali sono i migliori? In bambionato o in prima fila? Ehi, vizio, chi è il tuo amico? Ma chi è? Ho cercato di buttarlo fuori Non possiamo liberarcene? Non lo so, ma è qui dall'inizio Scommetto che è solo un glitch Beh, il glitch ha scritto un messaggio Chi dite che può essere? Questo è l'account di Lora Chi ha che era l'account di una morta? Potrebbe essere Lora Avanti, ora alziamo tutti le mani Chi è il genio? Oh, mio Dio Dai, ragazzi, chi ha postato il video? Non sono stato io Beh, uno di noi è stato Chi c'è? Chiudi la porta! Chiudi la porta! Nasconditi! Perché mandi questo video? Io non volevo, lo giuro Oh, ma giuri! Ma che sta succedendo? Cosa fa? Candy, qualcosa! Oh, mio! Oh, mio! Che è? Che è? Ehi, cosa? Io stacco! No, 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 no Ti ucciderai! Ho una pistola, mi senti? Perché sta contando? Ci sarà da divertirsi No, 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 no 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 No, 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 no